Ha ucciso il figlio di 5 anni Maxime in un raptus. La tragedia accaduta in una palazzina di via Petrarca in pieno centro a Pescara questa notte ha scosso un quartiere intero. Subito dopo l'accaduto gli agenti della squadra mobile della questura di Pescara coordinati da Pierfrancesco Muriana hanno fermato e arrestato il papà del bimbo Massimo Maravalle che ha confessato di aver soffocato nel sonno il figlio adottivo di 5 anni. L'uomo ha detto di essere stato colto da un raptus. Nel corso dell'interrogatorio avvenuto subito dopo l'arresto l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità e ha detto di aver agito in preda ad un qualcosa che non riesce a spiegarsi. Ad accorgersi di tutto è stata la moglie che si è svegliata nella notte prima del luna e si è accorta che il marito era sveglio e girava tra le stanze di casa. Quando gli ha chiesto che problema avesse lui si è mostrato tranquillo ma la donna insospettita ha raggiunto il piccolo che dormiva nella sua cameretta. Ha notato che non respirava e ha lanciato l'allarme. All'arrivo degli agenti l'uomo ha mostrato freddezza e in un primo momento si è limitato a dire che il piccolo non stava bene. A quanto sembra già l'altra notte c'era stato un episodio strano nell'abitazione della famiglia mentre il bimbo dormiva nel letto tra i genitori. Lui si era svegliato all'improvviso, lo aveva scosso ritenendo che il piccolo stesse male ma in realtà non c'era alcun problema come gli aveva fatto notare la moglie che si era anche lei svegliata di soprassalto. Il 47enne in cura per una forma di psicosi da qualche giorno avrebbe interrotto in maniera autonoma le cure mediche che gli sono state prescritte. Il bimbo è arrivato a Pescara a maggio 2012 in affido per poi essere adottato dalla coppia e proprio nelle prossime ore la procura di Pescara valuterà ogni aspetto della vicenda relativa alla morte del piccolo Maxim. Al momento non emergono altri particolari relativi alla situazione di salute dell'uomo specie per ciò che riguarda tutte le procedure di adozione del bimbo ma a Palazzo di Giustizia assicurano che qualora dovessero emergere eventuali altri reati o anomalie nella pratica tutto verrà valutato ai fini dell'accertamento della verità.